Senti, ma tu me lo lasceresti aprire un ristorante qua? Tanti non hanno mai avuto la possibilità di lavorare o che qualcuno credesse in loro in ambito lavorativo. Allora, il progetto di questo documentario nasce da lontano e nasce anche un po' con una sorta di timore nel farlo per una ragione in realtà divertente, nel senso che il progetto di In Galera è un progetto che ha fondato mia madre. Quindi è un progetto che in famiglia abbiamo seguito per anni, nel senso che mia mamma Silvia Pollera ha lavorato prima e lavora tuttora nel carcere di Bollate, aprendo una società di catering all'interno e poi c'era il sogno di questo ristorante. Quindi si è sempre parlato di carcere in famiglia ed è stato un tema all'ordine del giorno. C'è un bellissimo, un aneddoto che racconto sempre, c'è un bellissimo crottometraggio di Woody Allen, non mi ricordo come si chiama, era su New York Stories e c'è lui con la madre nel cielo che lo guarda dall'alto e gli dice le cose. Ecco, io ho un po' questo, insomma, l'idea, ho un ottimo rapporto con mia madre, ecco, l'idea di fare un documentario che in parte raccontasse anche di lei mi spaventava parecchio, ma alla fine poi gli eventi hanno fatto sì che questo documentario sia iniziato e quindi, come dire, io alla fine a tutti gli effetti questa storia la volevo raccontare, nel senso che è una storia molto bella, ma in realtà, più che parlare dei ristoranti in sé, mi interessava utilizzare il luogo come un filtro per raccontare la realtà carceraria, le carceri, il carcere di Bollate, ma in realtà anche i ragazzi che lavorano nel progetto. Io ho sempre lavorato un po' in questo modo, nel senso che anche con il documentario precedente che ho fatto, quello sul cinema Mexico di Milano, anche lì attraverso il luogo raccontavo altre cose, raccontavo altre tematiche, la vita di un uomo, la situazione del cinema a Milano, le sale che chiudono, quindi è sempre stata un po' una mia caratteristica nei documentari affidarmi un luogo e poi però a trattare diverse tematiche. Quindi così è nato un po' il progetto Benvenuti in Galera, il documentario, e quindi è stato un viaggio aiutato anche dal fatto che conoscevo molte persone già del progetto, perché, ripeto, è un progetto, tra virgolette, di cui si parla in famiglia spesso, e quindi è stata un po' quella la miccia, ecco. È stato un lavoro di scoperta, nel senso che sì, chiaramente sono tematiche che quotidianamente si affrontavano in famiglia, io chiaramente non vivo più con mia madre, ma costantemente ci si aggiornava e ci si raccontava, però un conto è vivere il carcere sulla propria pelle, attenzione, sulla propria pelle, nel senso entrarci, poi starci dentro un'altra cosa, però venire a contatto con questa realtà inevitabilmente ti cambia, ma soprattutto ti rendi conto di alcune cose. Il conto è parlarne, poi quando sei dentro, quando parli con i ragazzi, quando stai con loro, ecco, questo cambia completamente la prospettiva, ed infatti io ho da subito scelto un taglio che non volesse raccontare un po' il, come dire, il luogo comune sul carcere, quindi un luogo brutto, un luogo desolato, necessariamente la drammaticità, e da qui arriva anche la scelta del bianco e nero, cioè fin da subito ho voluto dare come fa un po' poi il ristorante, nel senso che nel documentario avevo raccontato, l'idea era di fare qualcosa di alto livello, questo ristorante, cioè mia mamma dice, non sarà il ristorante della carità, ma vogliamo alzare, cioè non perché siamo in carcere, allora bisogna fare le cose, e quindi anche il mio approccio è stato questo, raccontare queste storie con dignità, perché sono storie di dignità, ma soprattutto poi la prima cosa fondamentale è iniziare a vedere questi ragazzi, perché è solo la parte maschile, come degli esseri umani, pur sempre nel massimo rispetto delle vittime, perché in questo caso ci sono sempre delle vittime dall'altra parte, e questa all'inizio non è una cosa facile, perché io non li conoscevo tutti, perché dovete pensare che comunque c'è un continuo ricambio, a parte alcuni elementi fissi, tipo lo chef, molti si vengono spostati di carcere, molti escono, quindi hanno come dire, hanno un percorso che li porta a trovare lavoro fuori, quindi a lasciare poi il ristorante, quindi comunque c'è un continuo movimento, e quindi io ho dovuto conoscere tutti, e quindi piano piano introdurmi dentro questa grande famiglia, che è una grande famiglia di continuo movimento, e con questo mi riferisco anche proprio al carcere stesso, che mi ha colto a braccia aperte, e mi ha aiutato assolutamente, insomma, mi ha dato la possibilità di filmare nei luoghi, che non è sempre semplicissimo, c'è stata sempre una grandissima disponibilità, anche perché dovete sapere che comunque il documentario è stato girato nell'arco di tre anni, perché c'è stato di mezzo il Covid, quindi comunque è stata una lavorazione molto lunga, perché comunque ogni volta bisognava avere i permessi da Roma, poi i permessi da Roma arrivavano a Milano, e ogni volta dovevo anche tenere d'occhio diciamo il fattore tempo, c'era un documentario dove a un certo punto apparivano le mascherine, poi sparivano, sotto quel punto di vista è stato molto difficile, però devo dire che si è instaurato con i ragazzi un bellissimo rapporto, non di amicizia, ma un sano rapporto, un rispetto delle loro vite, anche perché io non avevo nessun interesse di sapere cosa hai fatto, di avere degli scoop, diciamo il taglio del documentario è proprio un'altra cosa, insomma non va in quella direzione lì, e quindi loro a un certo punto si sono abituati di noi, eravamo assolutamente una mini troupe leggerissima, proprio sia per le dimensioni stesse del ristorante, ma poi siamo andati anche dentro il carcere, nella cucina centrale, quindi comunque non è che gli spazi fossero ampi, ma soprattutto, come dire, eravamo una piccola troupe, io volevo fare qualcosa di agile, leggero, ma che mi desse la possibilità di stare con loro tanto tempo, quindi inevitabilmente stando tanto tempo con loro, loro non si accorgevano più di noi, o quantomeno si accorgevano, ma c'erano anche, come dire, dei patti, perché comunque in carcere ci sono determinate situazioni, e quindi tu sai anche quando è il momento di, ok, non è il momento di filmare, oppure di chiedere determinate cose. Quindi è stata un'esperienza umanamente molto interessante, e penso che sia utile parlarne di carcere, bisogna parlarne, e non bisogna averne paura e provare, come dire, a invertire un po' la prospettiva, a guardarlo dal dentro, con i loro occhi. È stato interessante provare a fare quel movimento all'inverso. I ragazzi lo vedranno a Filmmaker, per la prima volta li abbiamo invitati, per quello che ho tenuto parecchio, che loro ci fossero, per quello che ho anche chiesto all'organizzazione, abbiamo, perché tutti coloro che sono in articolo 21, quindi che possono uscire dal carcere, che hanno quindi la possibilità di uscire fuori e lavorare, ma anche di fare delle attività, possono venire. E quindi per me era una occasione molto bella, piuttosto che mostrarglielo su un computer, farglielo vedere in una sala cinematografica, e far vedere il lavoro che abbiamo fatto insieme, a tutti gli effetti, benché loro non fossero coscienti di che cosa stesse uscendo, però no, lo vedranno in sala. Mentre mia mamma l'ha visto, ovviamente l'ha visto, glielo ho fatto vedere prima, ha il lavoro terminato, e no, quindi saranno lì. La difficoltà maggiore è stata il tempo, comunque tre anni sono tanti, chiaramente non significa girare a tre anni, ma significa girare a piccole isole, e la cosa molto faticosa è stata tenere il filo del racconto, perché le cose cambiavano, i personaggi cambiavano, questo mi ha dato la possibilità, di seguire qualcuno nel percorso riabilitativo, al di fuori del carcere, quindi vedere una storia che si sviluppa, però dall'altra parte appunto abbiamo avuto un elemento come il Covid, che non ci permetteva più di entrare, quindi ecco diciamo tenere il filo della storia, se di storia poi possiamo parlare, perché a tutti gli effetti è una fresca più voci, è stato molto faticoso. L'altra cosa molto faticosa, io questo tipo di documentari preferisco sempre farli, tra virgolette, in autonomia, in modo indipendente, nel senso che sono documentari che hanno tendenzialmente, non tantissimo budget, che realizzo con collaboratori stretti, con cui lavoro da anni, che però mi danno, ci danno una massima libertà, quindi appunto se succedesse qualcosa, se c'è un evento improvviso, cioè se fai un documentario un po' più classico, hai delle giornate di shooting, mentre a me piace sempre tenermi la libertà del capire come vanno le cose, e quindi scegliere poi magari da un giorno con l'altro, andare a girare qualcosa, magari non per tutto il giorno, ad esempio c'è tutta una cornice del documentario di contestualizzazione degli snodi autostradali, e quelle sono tutte riprese che ho fatto io da solo, dopo aver iniziato a montare e aver iniziato a costruire la storia. Chiaramente il lavoro fondamentale è stato fatto in montaggio, col montatore con cui lavoro sempre, che è Walter Marocchi, con cui facciamo veramente un vero e proprio lavoro di scrittura, ma di scrittura e montaggio, non che ci mettiamo a scrivere. La storia, ho scelto di utilizzare il bianco e nero fin dall'inizio, devo dire, nel senso che da una parte volevo evitare un po' i luoghi comuni rispetto al carcere, perché comunque è brutto dirlo, ma sono delle strutture tendenzialmente fatiscenti e quindi a livello di riprese con diverse temperature e colore, quindi diciamo l'immagine un po' da film sul carcere con i cattivi è dietro l'angolo, diciamo. Mentre io credo, volevo anzi, con questo film documentario, questa è una storia di dignità, ti dicevo prima, è una storia comunque dove si cerca di tirar fuori del valore, queste persone cercano di tirar fuori del valore da loro stessi, il carcere stesso cerca di creare del valore, soprattutto cerca di ridare una seconda possibilità a queste persone, e quindi io volevo, anche qui cito mia mamma, loro quando fa sempre i colloqui, le dice io voglio che voi usciate dal carcere che è una bolla belli come il sole, perché se uscite belli come il sole, ovviamente metaforicamente, poi trovate la voce, se imparate a lavorare, se imparate a reinserirvi, ovviamente è più facile per voi. Ecco, io volevo che questo fosse un prodotto che in un qualche modo fosse elegante a livello visivo e quindi io nel mio piccolo, per me il bianco e nero è eleganza, come la divisa che hanno i camerieri nel ristorante, e quindi in questo senso abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, abbiamo girato avendo bianco e nero in testa e poi ovviamente l'abbiamo colorato in questa direzione. Ti dico solo che chiaramente è una scelta che non trova molto successo tra i distributori, perché il bianco e nero viene sempre visto come un problema, ma effettivamente per il grosso pubblico viene visto come antiquato o qualcosa altro, però per me insomma era importante ad ogni costo. È un detenuto? Perché devo parlare di lui? Perché devo dargli un lavoro? Perché devo dargli una casa? Servizio! Grazie! Grazie! Grazie. Grazie! Limpi.